Oggi esploriamo insieme il Disney Sequoia Lodge, uno degli hotel diciamo non troppo economici di Disneyland Paris. In mia opinione l'hotel è bellissimo, almeno nelle zone comuni. Le camere, essendo un po' vecchiotte, lasciano un po' a desiderare. E a tema parchi nazionali americani e questo mi fa impazzire, sembra di essere veramente al Sequoia National Park. E qui dentro potrete trovare una lounge, un bar bellissimo in cui abbiamo pure cenato, i cocktail costano 15,50€, un meet and greet al mattino con un personaggio e ovviamente anche lo shop Disney. Tra l'altro c'è pure la piscina, questa accessibile solamente agli ospiti dell'hotel, con idromassaggio, scivolo e cascata. C'è pure il ristorante tematizzato buffet, nel quale potete anche fare colazione al mattino, la cena costa 45€ a testa per gli adulti e la colazione invece 24. E questo era a grandi linee il Disney Sequoia Lodge, come tema assolutamente uno dei miei preferiti.